La testemone chiave è morta, crede che sia stata uccisa? Non lo so. Chi era? Una ragazza del racket che aveva accettato di parlare. Sara, mi dispiace, dovrei testimoniare. Il giudice del V è uno dei suoi clienti? No. Io so che vi vedete V2. Sara mi diceva che vi vedete. Mi diceva tutto. Quanto vuole? 20.000 euro più le spese? 20.000! Sai che differenza c'è tra te e me? Se una puttana si fa ammazzare a causa mia, questo mi pone un grosso problema di coscienza. Chiudi quella bocca, non l'ho uccisa io! Perché dovrebbero farmi del male? Sono la dea dell'amore. Dobbiamo smetterla con questo gioco al massacro. Tu hai paura. È brutto quando un uomo ha paura. Ma cosa hai fatto, Sara? Cosa hai fatto? Tutto tornerà come prima, lo sa perché? Perché in quell'ambiente detestano lo scandalo. Tu hai paura. 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 Tu hai paura.